Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video ragazzi Oggi mi è arrivato questo pacco da Amazon e quindi ho deciso di aprirlo insieme a voi Quindi ragazzi mi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina Di condividere questo video con tutti i vostri amici Arriviamo a 40 like per questo video Quindi passiamo subito allo spacchettamento Ed ecco qua raga Già state leggendo la scritta Fortnite Ed è il nostro bombarolo lucente È la mia skin preferita quindi ho deciso di prendere questo pupazzetto Con questa bellissima scatolina raga È davvero fantastico e con la testolina grossa Sono davvero fantastici questi pupazzetti raga Poi se andiamo al dietro della scatolina raga Possiamo vedere che non c'è soltanto il bombarolo lucente Ma c'è anche il black key knight E il mettiamo a fuoco Il leader squadra rosa e molti altri personaggi di Fortnite raga Quindi passiamo subito allo spacchettamento di questa scatolina Ecco all'interno troviamo il pupazzetto Con la testina rossa Si può anche girare il corpo E poi possiamo notare anche col suo bel piccone Che purtroppo io su Fortnite non l'ho potuto acquistare Ma in futuro lo acquisterò Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Commentate sotto questo video se volete altri unboxing di questo genere Vi invito anche a supportarvi come creatore Basta andare nel negozio oggetti di Fortnite In basso a destra Codice creatore Digitare TheDark2605 Tutto nito Ragazzi dal vostro guardo Dark è tutto Ci vediamo nel prossimo video Bella boys Ciao